Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata della redazione Consiglia. Oggi vi consigliamo, diciamo, Nii, Dead Rising Deluxe Remastered. Prodotta da Capcom, lingua inglese, giapponese e anche doppiata in italiano, con sottotitoli in italiano, disponibile sia in versione digitale per PC, PlayStation 5 Xbox Series XS in versione fisica per PlayStation 5 Xbox Series XS al prezzo di 70€, supporti 4KC, generazione e solo horror. Parliamo della trama, il giocatore interpreterà il fotoreporter freelance Frank West. Insomma, la sua avventura è un po' complicata perché si troverà, a suo magrado, in un centro commerciale invaso da zombie e dovrà sopravvivere, realmente, 72 ore per scoprire la verità sulle pandemie zombesca. Perché lo consigliamo? Allora, Capcom riporta sulle nostre console PlayStation 5, Xbox Series XS e PC una vecchia perla. Nel 2006 venne prodotto Dead Rising, un'ex esclusiva Xbox 360, poi dopo è uscita una remastered per anche PlayStation 4, per Xbox One, Xbox Series XS, con la retrocompatibilità. Questa nuova versione, tra virgolette remastered, vanta come, diciamo, utilizzo per, come si potrebbe dire, ricreare, rimodellare e anche restaurare il gioco col motore grafico proprietario che tutti noi ben conosciamo, Capcom ha inventato il Re-Engine, che è il motore grafico che muove The V-My Cry, Reset Heavy e tutti i prodotti di Capcom, compreso anche Street Fighter VI. Allora, infatti le abitazioni sono state più ridefinite, sono più dettagliate, hanno un frame rate più fluido, più stabile. Anche i modelli dei personaggi è stato ricostruito, sono più dettagliati, con animazioni molto più fluide, più realistiche. Insomma, più che una remastered, definirei un remake, un remake del vecchio Dead Rising, uscito nel 2006, che alla fine non è male. Poi anche le musiche sono ben implementate, anche il doppiaggio in italiano è ben curato. Diciamo, dal punto di vista tecnico, hanno fatto un bel lavoro. Un'altra piccola modifica hanno fatto anche nel gameplay, ma proprio leggera, leggera. Per non distaccarsi troppo dall'originale. Cosa rendeva questo gioco bellissimo? Prima di tutto potevamo affrontare i zombie in qualsiasi maniera, utilizzando qualsiasi oggetto presente nell'abitazione, che era una cassa, poteva essere un bidone delle modizie, una sbranga, e potevamo anche usare le pistole. In questo caso l'uso delle armi da fuoco è un po' più libero. Possiamo puntare alla testa, alla gamba, al braccio, possiamo muoverci mentre puntiamo, all'incontrario dell'altro, che è quello che purtroppo non si poteva fare. Un'altra cosa fighissima è che possiamo trovare anche i superstiti, possiamo decidere se salvargli la vita oppure no, possiamo scortarli al rifugio, e da lì possiamo anche prendere i punti esperienza. Un altro metodo per prendere i punti esperienza, oltre che combattere e salvare i superstiti, è anche fare le fotografie, come si vede nel video dimostrativo. Noi facciamo la foto, riceviamo dei punti esperienza che faranno crescere il livello, il personaggio. Una volta che cresce il livello e il personaggio, vengono sbloccate nuove abilità, aumenta anche la vita, diciamo che diventa più efficace possibile. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto nel gioco, è che abbiamo le missioni primarie e secondarie, possiamo liberamente scegliere di giocare oppure no, possiamo aspettare tutte le 72 ore cazzeggiando nel supermercato, oppure possiamo scoprire la verità. Oltre agli zombie avremo anche a fare più avanti contro altri tipi di nemici, i psicopatici, e alcuni di essi sono anche dei boss abbastanza ostici. Allora, il punto è questo. Il gioco è un remake più che una remastered, lo consiglio magari a un prezzo scontato per chi come me vuole rigiocarselo in chiave moderna, o magari chi purtroppo non ha avuto l'occasione all'epoca di giocarselo. Quindi in questo caso potrebbe essere un ottimo motivo. Perché anche prendere la remastered, diciamo che la remastered ormai sa un po' di vecchio, quindi col motore grafico aggiornato, con nuove introduzioni nel gameplay, che lo rende un po' più appetitibile, è meglio questo remake che la remastered. Ovviamente il prezzo, giustamente la remastered è quella vecchia, ha un prezzo molto più contenuto rispetto ai remake, però voi aspettate che cala un po' di prezzo. Fidatevi, compratevi il remake, che ne vale più la pena. Certo, il gioco ovviamente non si distacca molto dall'originale, la trama è la stessa, le situazioni sono le stesse, l'unica cosa è che è tutto in chiave un pochettino, un po' più moderna. Bene ragazzi, questa è la mia opinione su Dead Rise Deluxe Remastered, fatemi sapere anche voi la vostra, se ci avete giocato all'epoca, o se volete rigiocare questa edizione, o se caso non avete mai 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 giocato all'originale, questa volta forse potrebbe essere la volta buona. Noi ci vediamo alla prossima, grazie come sempre per il vostro supporto, lasciate un like e un commento, se volete fare visita ai nostri negozi consigliati, GameStar, Nerd Gravity, trovate sempre il link in descrizione, e se caso volete fare una piccola donazione, adozione canini di Citilio. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, bye bye. Ciao a tutti, ciao a tutti.